Oh no, credo che stia per piovere. Sì, tiriamo su il tettuccio. Ora, quale sarà il pulsante giusto? Ozza che sciocco sono! Deve essere questo qui. La macchina nuova ha schizzato papà P. Giocchino papà, quello non è per il tettuccio. Questo pulsante. Ops, non è quello. Allora è questo. Papà Pig ha dimenticato qual è il pulsante giusto. Io e questa macchina non andiamo d'accordo. Proviamo con il pulsante rosso. Evviva!